Ciao Vets, benvenuti in un nuovo episodio di DiveWars, Modpack 20, tutte quelle cose là Sono con la texture normale, con un creeper che mi vuole uccidere Vieni qua, vieni qua, su, su, veloce, cioè, sei più lento di me No, perché non va più? Perché? Perché? Vabbè Allora, sono con la texture normale per un semplice motivo Perché c'è stato l'aggiornamento del pacchetto alla 5.1.5 Questo qua è installato, sì E anche il voltaggio è enorme Perché non va? A 5.2.0 Volevo fare un'altra cosa, ma visto che sto coso non funziona Devo capire come si fa Contro, allora Perché se mi è cambiato qualcosa mi cazzo Qua non c'è niente Slide, Busquets Non mi fa più lancio meccanico Ho capito tutto Hanno aggiornato questa mod Qua, sì Ma la vedremo la prossima volta Perché stavo girando Tra le mod e vedo Che gli advanced oggetti qua Hanno inserito la Gravi Tools Che doveva essere lo strumento per Lo strumento finale Lo strumento migliore per tutti gli altri Quindi, molto buona Poi ho scoperto anche L'Advanced Electric Jetpack L'unico problema che mi tocca fare queste Per fare queste Mi serve un botto di copper Quindi Per il momento Non posso fare niente Però Magari la prossima volta Ci mettiamo con la Towncraft E facciamo tanto copper E lasciamo le tartarughe scavare Adesso che ci penso Le tartarughe sono andate a farsi fottere Perché Mi è toccato chiudere il server Per altri motori Quindi Non hanno scavato niente Sono ancora là Che aspettano E intanto giravo Vedevo un po' di mod E Arrivo qua e vedo What is this shit? Cioè Questa qua è la mela di Dei cosi? Degli Dei vermi? Ah Killmob Not blocks Or Whatever E se non sbaglio Questa qua dovrebbe appartenere Alla Cos'è un torch The gameplay is damn Long distance Bad cost Uh Buono Della X Reliquarium O Non mi ricordo bene il suo nome Doveva essere qualcosa del genere E giravo qua E vedevo Questo occhio che si muove Extra figo Aspettate Eccolo E Questo qua Ho letto È un infinite È un bucket infinito di acqua Non male E poi giro di qua E vedo Questi elisir Un po' di armature E stranamente Destruction Catalyst E mi chiamano adesso E le notizie belle Arrivano nei giorni belli È arrivato Il game Caccio Ok Noi eravamo qua Allora Adesso c'è un Catalyst Ma Mi vuoi dire Cosa servi? Proviamolo Allora Axel Reliquarium Mi sta Zittendo Mi sta Anche questo Mi sta Un po' Come dire Mi sta iniziando a piacere Ecco Perché ne ho presi due Che bastava uno Hai visto Avete cambiato Anche la texture Della manina Ehm Voglio fare Destruction Catalyst Perché mi arrivano Messaggi a manetta Sì Sì Arrivo Fine L'ho capito Cosa deve venire su TS Arrivo Sto facendo Un episodio Per i nostri iscritti Che ormai sono 65 Ehm Ho visto anche I commenti Del Dell'arm and shake Sì Quella è la mia classe È la mia classe Ok Basta Ehm Continuiamo qua Perché se no Non finiamo più Stavamo dicendo Destruction Catalyst Ci serve La lente No Midas qualcosa Allora Un botto di oro Asp Ah boh Non ce ne serve Una di Cast Perfetto No No Eccola qua E' averne 2 e 3 Se non sbaglio 2 Oho Che figata Ehm Normatura Ok Cosa è che stavo facendo Ah sì Questa Allora 2 3 4 Blocchi d'oro P2 F9 18 27 Più 3 30 E 2 Vergele di Blaze Perfetto Apriamo a far salente Vediamo come cazzo Se vuole la funzione Poi C'è Perché Ho visto Sto cosa Ho detto Ma Che cacchio è Boh E poi faccio E poi faccio Ma Questa qua Non è mica Hanno aggiunto Un'altra cosa Un'altra cosa Uffa Se mi è fatta Che non so Non so Non è il cazzo Che Ehm E dicevo Ma Questa qua E' la La nuova versione Di Di questo O è un'altra cosa E qua Ancora le borsette Non vanno Non ci sono crafting La fria Non esiste E ho detto Vediamo E E Dopo mi sono reso Conto Ma Ci sono le croci Di gris C'è C'è La mela Bomba E il coso Ho detto Che c'è Una X Reliquario A meno Che non sia Reliqui E credo Che sia Quella Quindi Non so Se è Veramente Quella Perché L'ho detta Così A caso Perché Diciamo Che Questa mod È nuova L'hanno aggiunta Nella 5.1 E Mai sentito A dirla La verità Allora Proviamo Sta cosa Perché C'è C'è Mi ispira Altamente Se hanno Rifatto La Non parlo La Gunpower Dove Cazzo L'ho messa Cosa Am 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 No Ancora Ancora No Scherzo Ok Andiamo a provarla C'è un buco vicino a mia Cosa è nostra Cosa è mia Vabbè Però non è compatibile con tutte le mod Cosa è Però Non mi da Niente Cosa è Io sto facendo delle cose fighe Arriva il mio fratello Con il suo cazzo di amico Ero per le palle Ok Ho notato che Ah Ok Ho capito Cosa fa Questa cosa Mi butta via un macello di cose Hai capito Uh copper Ci serve Hai capito Voi non vedete un cazzo In poche parole Questa qua fa da Trova minerali Posso dire Perché ci trova i minerali Che figata Io poi troppo Grazie sta a mano A scavare Perché l'alluminio Lo scava Tipo come Se fosse burro E il ferro Lo scavava Copper utile Carbone Una bella mineata In questi giorni Visto che non so più Arrivare al livello Alla puntata 100 Non so più Che cazzo fare Magari il prossimo episodio No Il prossimo episodio Facciamo copper O miniera O copper E Prossimo ancora Faremo Gli advanced Strumenti Strani E nel prossimo Ancora Qualcos'altro Bello Ho cambiato anche La texture Del computer Eh si La faithful Non ce l'ho più Come volevo dire Perché Non c'è più E non so perché Questo qua non spara Devo capire perché Non spara Aspettate Andiamo a vedere Le api Non tanto per usarle Ma per vedere Se funzionano Come in bia O perché Ma perché è notte Quindi non mi fa male Brava Non male Non male Però questo qua Non ho capito Il senso Ah E questi Visamente lì Porca Madonna Cos'è che è uscito Ah cazzo Questa qua Deve entrare Per forza Da sotto Ok Quest'impianto Lo vedremo Più avanti Però Visto che non volete Più le api Non lo farò E sono cambiata Anche l'impostazione Adesso è il movie Invece che vabbè Eeeh Si è troppo corto Questo episodio Quindi dicevo Gamecatcher è arrivato Quindi aspettate Una bella partita In Black Ops Se funziona Se funziona Sperando Allora Uh Bello Uh Aspetta Aspetta Perché Se non sbaglio Ah però Visto che Il server è stato chiuso Quindi non ha fatto un cazzo Quindi Ho cambiato Salvere i libri Sono ancora Perfettamente funzionanti Che bello Basta Lasci mancarlo Non funziona Che cacchio è sapevo il contro circuito Che cacchio è il contro circuito Eeeh to read the universal electrical power generation in the wire ah ok ho capito forse questo qua dovrebbe leggere l'energia di questi e questo vogliamo fare questo? oh si no io devo capire perché non va più il pulsante a far così ma li ho persi ancora ah si le batterie vanno perse allora non è un bug scusate e l'hp come si faceva? ah si ok no non ho capito un cazzo ma passano anche gli aerei cacchio che palle che bello si possono fare i modi diversi che finalmente glowstone me ne sanno due due vetri due hand apple che stanno finendo piano piano ma faremo una bella farm no non so non credo che farò farm cartone di palle e per fare questi è uguale spero no non è solo due che figata di canzone ok la tira fatta è molto semplice è molto bello perché funziona a pennello che cazzo ho detto install mettiamo ai voltesi presiamo questo mettiamo che devi sparare ahhhh o ah cosa è male ah scus mi ah con shift cazzo con shift am mori 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 uo ma fa cagare non ho potenziato che è scarso perché devo anche riempirlo di energia e se non sbaglio dovrebbero aver aumentato la velocità di questi cosi mi sbaglio vabbè hanno detto che aumentavano qualcosa della buildcraft però non ho capito cosa e ho tenuto premuto shift e spara ok bisogna tenere premuto shift e col destro sparare per farlo funzionare si ma adesso come faccio a farlo tornare normale che non spari vabbè è meglio che spari che sia più divertente ah forse adesso no c'è ancora apri non la pay rechange andiamo qui vediamo se è cambiato qualcosa non so perché ma da quando non teniamo più la texture normale mi sembra tutto cambiato tutto cambiato coglione devo riempir la mano peccato che non ci dia tipo una riga sotto per vedere quanta energia ha all'interno grazie fai anche io stavo facendo una puntata dai veloce però cacchio ok non riempio queste perché si le riempio a mano a vedere invece voglio andare a vedere una cosa perché aggiornamenti dopo aggiornamenti voglio vedere se funziona ancora sta cosa ma fa cacchio la 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 4 un po tutto basta metterlo dentro con gli anch'io coglione il minore che cazzo di vediamo che questo momento di questo 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 ci sono questi bambini che sale tra le palle questo allora abbiamo capito che la destruction catalyst distrugge tutta la terra e tutta anche la sabbia non voglio tentarlo tutta la ma giusto non ho le scarpe tutta la pietra in modo da trovarci minerali non è male non è male solo che io non ho gun power quindi è altamente inutile magari la prossima volta faremo qualcosina in più di questo no ho detto la prossima volta scavaggio scavaggio oggi no la piaga qua la vicina perché avete capito siamo in tesla coin come cazzo faccio a fare un tesla coin senza coppia eeeh poi in seguito in seguito un po' di queste cose qua anche questo si muove che figa basta ma a cosa servono questi devo provarli mi ispirano un macello questo pane mi ispira ancora di più questo troppe gasti vabbè ma per questo episodio è tutto abbiamo fatto la destruction catalyst dei poveri perché non è quello originale no perché quello originale era uber power ok ma è sempre figa quindi da questo episodio è tutto da dj ciao maz grazie